messaggio di maria regina dell'amore dell'8 dicembre 2001 magnificate come il signore figli miei grande arricchimento spirituale per la chiesa di gesù sono le schiere di consacrati che si affidano al mio cuore di mamma l'immacolato cuore mio e porta del cielo aperto ad accogliere tutti i miei figli nel privilegio della fede ecco il grande disegno di dio per la sua chiesa figli cari se guardate a dio non potete più camminare per vie comuni occorre vivere nella chiesa la più grande santità per poter resistere a tutti gli urti tremendi della società di oggi io assicuro a quanti a me si affidano la sicurezza nella fede e il trionfo finale tutti vi benedico stringendovi a me grazie a tutti